Salve a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale io sono Giacomo e in questo video guardiamo questo kit per fare i cavi della Harley Benton per fare i cavetti patch, quelli che vanno a collegare i pedalini per le nostre chitarrozze questo kit dovrebbe bastare per fare almeno 5 cavetti poiché ci sono 10 connettori, quindi ne servono 2 per ogni cavetto e non servono saldature per fare questi cavi quindi andiamo a vedere se è facile fare questi cavi, se funzionano io sono completamente negato per le saldature e queste cose un po' più tecniche per questo vi consiglio di andare a vedere il canale del mio amico Alberto Panni che dà delle ottime spiegazioni sul fai da te per la chitarra vediamo però se questo kit della Harley Benton è alla portata di tutti perché se ci riesco io vuol dire che è fattibile per chiunque ma prima di cominciare, come sempre, se non lo avete ancora fatto vi invito ad iscrivervi al canale per me sarebbe fantastico avervi nella nostra community dove siete i benvenuti e se il video vi piacerà lasciatemi un like vi ricordo anche che ogni commento, anche il più semplice, è sempre ben gradito con questi semplici gesti aiutate il canale a crescere e mi date stimolo a me ad andare avanti quindi, forza, iscrizione, like e poi un bel commentino e ora, visto che siete stati bravi, possiamo andare avanti vediamo cos'è che è compreso in questo kit allora libricino in inglese deutsche, che roba vabbè, niente, intanto questi vi unileggio mai nessuno poi c'è 3 metri di questo cavo ok questo affare che, come si dice, dalle mi parti è sicuramente un troiaio infatti mi sono attrezzato con qualcosa di più serio i connettori che sono 10 e cacciavitino del caso anche questo sarà un po' un troiaio ma insomma, vediamo se farà il suo livello buon, proviamo a fare un cavo io, ripeto, sono abbastanza crognolo in queste cose quindi, se ci riesco io, dovrebbero riuscirci tutti allora, per prima cosa, apriamo i connettori ok vai fatto già confusione eccole qui allora da una prima occhiata sembrano abbastanza costruiti bene ora io non sono un esperto però non danno l'idea di cinesata, no? per capirsi allora per quello che ho capito questo queste belle immagini, eh? ci spiegheranno tutto allora per quello che ho capito con questo affare andrebbe tagliato pari il cavo e poi infilato nel connettore e avvitato tagliato perpendicolare e non facendo cose strane ok allora proviamo a tagliare un primo cavetto facciamo qualcosa di breve per attaccare due pedali vicini intanto mi fanno comodo e vediamo taglio perpendicolare mi sembra fatta bene vado procedo ok tagliato questo pezzetto di cavo e ora si inzuppa qui dentro queste steppettine che vanno allentate se funziona bimbi dè tanta roba anche perché questa ho levato la vite proprio del tutto si inserisco bene bene sto cavo ce lo pigio come si dice e poi ce l'avvito questi connettori sono anche abbastanza stretti quindi per cavi corti per pedali vicini dovrebbero andare bene ok la vite tiene facciamo questa altra cosa si vede un sol pratico io che sta fuori ovvio inzuppiamo anche questo boh più di così e un boh bimbi se funziona è un miravolo mezzo miravolo ovvio si è strinta anche questa vite e questo è il cavetto tac guarda il bellino ovvio e non resta è provarlo su due pedalini vediamo attacco tutto e si prova per l'alimentazione dei pedali attacco un power bank con un adattatore se non conoscete questa cosa io trovo comodissimo attaccare i pedali a un power bank perché così si elimina i rumori di fondi dovuti alla rete elettrica per far questo uso un adattatore usb con l'uscita per i pedali che vi lascio il link di questo accessorio utilissimo e questo è un power bank bello potente vi lascio il link anche di questo qui mi piaceva un sacco perché c'era la zampetta del gatto naturalmente per alimentare più pedali ha questo adattatore che ha un'uscita sola va utilizzato un cavetto con più uscite e l'ingresso femmina ora questo ne ha tante di più ne utilizzerò solo due ma tanto basta per farvi vedere come funziona ok acceso il power bank attacchiamo due connettori ai pedali quindi ora non resta che collegare chitarra e amplificatore chitarra collegata amplificatore collegato non resta vedere se funziona tanto così pulito alla grande oh funziona accendiamo ora i pedali l'overdrive l'overdrive big muff versione nano ottimo direi insieme ok quindi che dire esperimento riuscito ovvero primo cavo provato funziona collegato questi due pedali un cavetto corto senza particolari difficoltà come ho già detto io sono abbastanza negato per questo tipo di lavori già quando ho cambiato le meccaniche autobloccanti alla mia Harley Benton mi è sembrato di fare un'impresa epica vi lascio il video in descrizione se vi fa voglia di vederlo allora però parliamo di una cosa quanto costa questo kit della Harley Benton con cui possiamo fare 5 cavi costa sul sito di Thomann 17,90€ quindi è da valutare un attimo perché questi 17,90€ vanno suddivisi per 5 cavetti che viene quasi 3,60€ a cavetto è da valutare se altri cavetti di altre marche possono fare a caso nostro con questo kit la comodità è che però possiamo farli della misura che vogliamo abbiamo 3 metri di cavo che quindi insomma ci danno ampia possibilità ora per testare la qualità del cavo probabilmente ci sarà qualcuno più esperto e qualificato di me per farlo io ho visto solo che funziona e che il suono esce abbastanza bene al mio orecchio se qualcuno ne sa qualcosa di più lo faccio sapere qua nei commenti è ben gradito questo kit a mio avviso può essere molto utile in quanto io per esempio sono uno che smonta e monta le pedaliere in continuazione e quindi avere la possibilità anche di farmi i cavetti con la misura precisa che desidero è una bella comodità quindi questo è quanto per questo kit dell'Harley Benton per costruirsi i cavetti patch per la pedaliera fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questo kit come vi siete trovati in caso o se utilizzate altre soluzioni come per esempio comprare i cavetti già fatti e magari con quali cavetti vi trovate bene se il video vi è piaciuto lasciatemi un like e se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al canale con questo vi saluto a presto e buona musica